mitici mitiche continuiamo strender se allora questo gioco è una figata allora dobbiamo absolutely fare da mania assolutamente tra l'altro ci sono anche nuove ricette io ho trovato un nuovo pece pomodori ok e quindi facciamo mai riso zucca no assolutamente no 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 porca ho sbagliato allora pomodoro pesciolozzo e carota insalata di platè fantastico allora granchio pomodoro e patata a volte fa cose strane ok quindi facciamo così no 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 dai non andarvi la mais secondo me aspetta allora la pratessa c'è però smetti la smetti la fa cose strane questo qui eh allora cipolla sicuro riso no allora fa cose strane questo questo la rota no 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 basta smettila patata no 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 Sì Patata Facciamo anche un altro guarda Patata Cinque Facciamo un altro adesso Un'altra cosa Questo che cos'è Sempre quello però Comodato è richiesto Vai andamocene Allora, allora Ok, proviamo a vedere Bravissima Mi piace Appena appena Niente di che Vabbè, piace Ma niente di che Vabbè, qui sta Allora Andiamo a mettere Acqua Oh, perché esbufano Ok Fai andamocchi un botto Raga Carota è Manzane Patate Patate Un sacco di tempo Si perde a fare L'orto Ok Allora Allora C'è da dire Che Bisogna Piantare Altre cose Un sacco di tempo Tantissimo Tantissimo Tantissima fatica Effettivamente Lavorare la terra Raga Non è facile Non so se voi L'avete mai fatto Ma Devo dire la verità Che È tosto È tosto Acqua tutto E niente Questo gioco Ragazzi Io ve lo consiglio Perché È veramente figo C'è un po' Di crafting C'è esplorazione Per adesso Non ho ancora Incontrato No Per esempio A metterli Troppo vicino È così Ho ancora trovato Porca Gente che Però c'è la spada Quindi penso che Più avanti Ci saranno anche I cattivi Credo C'è un po' C'è un po' Centinaia di litri Centinaia di litri Non quasi Arrivando A essere Esausti Che fortuna Allora Possiamo anche Andarcene Eh sì Perché La tronda Non si può Andare Almeno Che ci Spenda Il 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 Si Allora Manca Teresa Ma mancano Le corde Allora Fatevi vedere Un secondo Qual è L'isola Delle corde Questa 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 Non è scoperta Però Chissà che Si può essere Quell'altra L'isola Delle corde Magari È un isolotto La paura Con corde Assurdo Io andresto Che io L'altra Isola Però Fossi In me Questa Parte Non Non Col pulso In domanda Addirittura È una parte Della isola Della principale Che non Ho scoperto Nulla E non C'è neanche Dove Si sale Non Che si può Stare Qua Ma Questa è una parte Grossa Della mia Isola Principale Soprima Anche Soprima No Ho scoperto Un granché No Questa Questa È una parte Esattamente Vedi Non so Ah Forse c'è da Sì sì Ho capito Ho capito Che parte Dell'isola È quella Che devo fare Quella specie Di ponte Oh Attenzione Si va a sbattere Contro le rocce Sono i veri marinai Viacciamo di notte E' una parte E' una parte Metallo è buono Ci serve La corda Noo 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 Tempesta maledetta, maledetta tempesta Se c'è la tempesta maledetta vuol dire che probabilmente non ci dobbiamo andare adesso Non ci dobbiamo andare adesso Andiamo a esplorare l'altra parte Andiamo giù con la barchetta Allora Bisogna che andiamo qua Oppure sotto Beh ci credo che non è rilassato Perché non è rilassato E la barchetta è una barchetta a rim Povero nostro eroe Sono un sacco di tempo per fare queste cose Legno Patata Uccellino uccellino Allora vediamo un secondo No Devo fare il giro Perché No Beh Una cappatina qua Le facciamo però Porca Non c'è niente Cimietta No Ma no Che cavolo Ugo sbagliato Potremmo dare una cimietta a questo punto allora C'è ugo sbagliato Allora Ci vabbiamo C'è lui si, corde si, corde si, corde chissà cosa bisogna portare lì chissà medaglion medaglion però qua sopra allora tanta tanta corda c'è una prassi mia Grazie a tutti. Bello. Bello. andiamo via perché sennò sto praticamente morendo eh sì perché il minstru finisce e' un attimo che fa allora allora vediamo un attimo prima di tutto e lo diamo a lei l'unica che gli piace la cosa il pomodoro no allora facciamo così pomodoro per tutti e la patata no 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 e la patata a lui vai no no Allora dai che barba Siamo da bere a questi fiorellini Ah non ho niente Ok E stare attenti dove c'è il simbolo del Ah non ho niente Ah non ho niente Ah non ho niente Sì i pomodori mi servono Non c'è la cipolla eh Ce ne fanno cuore un botto Ok Sì chiaramente non c'è Ho un riso e altre due cipolle Allora facciamolo qua Allora questo gioco Ragazzi vi Vi porterà via un sacco di tempo Un po' anche farsi cosa Ma io volevo vedere la casa di lei e poi chiaramente andare avanti con le quest perché poi è fondamentale andare avanti con le quest Ecco Ecco Regalala salto e poi non vi do quello serve Due assi di legno, tasselli e corda Corda robusta Crea Due tasselli Dovrei essere a posto eh No Cosa mi manca? Due assi di legno Uno tasselli di fortuna Una corda robusta Una corda robusta Due assi di legno manca allora Corda robusta Tassselli di fortuna Trammenti L'asse di legno Ah solo due assi Due alberelli Ora vai a vedere che non trovo alberelli oh Porca loca non c'è alberelli No basta Che sbagliottasse Dai caspita Ma forse qui è il posto Cos'è che serve qua? Quattro e due tasselli di fortuna Ma questa sarebbe la parte La parte che non ci posso salire Sì ma gli alberi devono crescere No No Poi Poi Ah vabbè Ciao mi amor Ciao mi amor Speriamo di non morire Stufato Un uno due tre e quattro uno poi forza di fortuna quattro a regola se non ho sbagliato i calcoli possiamo costruire sia questo che anche l'altro pezzo bella e vai teresa teresita offriamo un bel regalo a teresa una bella oh tu vuoi questa conchiglia? oh vuoi un fiore? oh sei incredibile un coco? poco bello po' teresa è rotto eh ahhh vuoi il letto a baldracino un po' troppe pretese eh teresa io te lo dico corda è un altro cordo che non abbiamo vabbè teresita dormi per terra amica mia dormi per terra amica mia mi fiondo subito senza sbagliare su quello che potrebbe essere una nuova parte qui che cos'è che serve ma qua serve qualcosa qui avanti nooo cacchio cos'è che serve quattro assi di legno ah quattro assi di legno e due tassali fortuna non c'è per fortuna meno qua quando si è qui non rompe le scatole con quattro assi di legno ok diciamo le cose un po' per volta senza che le risorse si fanno fatica a andare a prenderle costruisci andiamo a vedere subito com'è con la concia dai se non c'è niente però ok non c'è niente manco una cassa vabbè neanche neanche una cassa vabbè vabbè un sacco di fatica oh 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 aspetta un sacco di fatica per nulla che non si può neanche salire di qua perché se si poteva salire lì ma arrabbiavo vabbè ci stanno questi esperimenti però parliamo con Charles immediatamente a parlare con Charles ora ve lo faccio tutto il giro ok Charles ho costruito cappanne che mancava ottimo lavoro accampamento completo mi piacere camminare immagini dal tempo Marco Dono non si è resa adesso che ha qualcosa per te ok ok borsa di cibo piccola ah un bel divanozzo a l'inizio adesso trova Cecilia nella sua capanna ah Cecilia non Teresa ok ok oh no oh Grazie a tutti.